Buongiorno viaggiatori, speriamo che non sia un pippone, ma noi volevamo dirvi una cosa, volevamo ringraziarvi perché siamo arrivati a 3000, grazie per la vostra fiducia, continuate a vederci, cosa vuoi dire? Ah finalmente posso parlare anch'io, io vi volevo ringraziare perché questo è uno short sennò poi diventa un pippone, però vi volevamo ringraziare di tutto cuore perché i viaggiatori stanno diventando tantissimi a bordo ormai la belva, dobbiamo mettere dei posti supplementari, però siamo in Grecia e davanti a questo mare non c'è occasione migliore, abbiamo preparato anche una creazione artistica, è lei, questa è lei che ha preparato, tutta per voi, grazie, grazie, grazie di cuore a tutti, e salutiamo dalla Grecia, ciao! Grazie a tutti!